ciao a tutti oggi prepareremo il semi freddo alla nutella il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa più cinque ore di riposo in congelatore ingredienti sono panna fresca latte nutella zucchero tuorli vanillina liquore al cioccolato e farina andiamo il via alla ricetta prima di iniziare la ricetta riponiamo in congelatore la panna che ci servirà ben fredda iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero la farina i tuorli il liquore al cioccolato la vanillina e il latte chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per otto minuti a 80 gradi velocità 4 aggiungiamo la nutella e facciamo amalgamare per un minuto a velocità 4 trasferiamo in una ciotola capiente e lasciamo raffreddare abbiamo lavato e asciugato il boccale adesso versiamo lo zucchero e lo facciamo polverizzare in 10 secondi a velocità 10 finiamo sul fondo del boccale lo zucchero posizioniamo la farfalla riprendiamo la panna dal congelatore versiamo la panna chiudiamo con il coperchio senza il misurino e azioniamo il bimbi senza impostare il tempo a velocità 3 e mezzo fermiamo il bimbi la panna è ben montata trasferiamola nella ciotola con la crema alla nutella adesso amalgamiamo con movimenti circolari dal basso verso l'alto delicatamente adesso trasferiremo il composto in degli stampi al silicone trasferiamola in congelatore per almeno 4-5 ore o per una notte trascorso il tempo i semifreddi sono pronti adesso andremo a impiattarli semifreddo alla nutella grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti